Il saluto tra Max Menetti e Alessandro Magro, si ritrovano questi due staff. Palla poi che Russell vorrebbe restituire proprio a Jones, palla persa anche per Treviso, corre Mitrulong che va ad appoggiare dall'altra parte. Il secondo fa la forza di Gabriel, dall'altra parte tripla presa e segnata da Thomas Dimcha. Mentre Della Valle si ritrova il pallone in mano e fa quello che gli riesce meglio. Mentre Petruccelli corre ancora una volta in transizione, bravissimo in questo punto di conclusione, il numero 7. Per cento di Sims, prova a correre in bro, bravo di Tocco Bortolani e indirizzare verso Sokowoski. Tripla del Polacco, 6 su 13 per la squadra di Max Menetti, mentre arriva il canestro in penetrazione di Della Valle. La Fintana che insiste in palleggio, scarico per Petruccelli, armata la sua mano. Cerca qualcosa di troppo rischioso, bravo Jones di Tocco a mandare il pallone a un compagno. Poi perfetta la rotazione di palla della Boutry Bullet. Palla dentro di Russell, ma il rimbalzo lungo premia Russell. Previso che però perde palla, sesta persa per Russell, cuore Della Valle. Che batte la sirena, trova il legato vincente, proprio in chiusura di secondo periodo. Andando Bortolani. Invece Bortolani che poi prova a prendere la tripla, scoppato da dietro, da Della Valle. Che poi vede dentro a Mitraulong, finta, riapre proprio sul perimetro per Della Valle. Che è bravo a segnare da tre punti. Tante occasioni per Treviso per tornare a meno due, ma il rimbalzo attensivo permette alla Boutry Bullet di rimanere in quella metà campo. Russell da tre! Segnano il canestro del meno uno. Per Dewey Russell che va dentro da Jones. Tocco in angolo per Bortolani. Che si alza e spara. Scrivete tre. Per Giordano Bortolani. E sorpasso. No tre bolle, Treviso. Mentre la Quintana deve portare una tripla difficilissima. Quello che era il massimo vantaggio di Brescia. Il suo massimo vantaggio. Che adesso si riaggiorna nuovamente. Nel momento 23 punti combinati in questa partita. Mentre la Quintana trova un jolly incredibile. Origine d'errore si assottiglia per la Germani. Coppins per Vitroulon. Di tocco in angolo. La Quintana! Che ha fatto tantissime cose preziose nel quarto periodo. Bortolani da tre. Rispondi ancora una volta. Metterebbe la stessa Treviso a un passo dal biglietto per le Final Eight. Russell in penetrazione. In controtempo. Si appoggia il corpo di Coppins. Che giocata di Rui e Russell. Treviso rimane imbattuta in questo girone di Supercoppa. e passa a condurre in classifica con sei punti, tre vittori e tre partite.